L'assessore all'agricoltura della Regione Calabria, Michele Trematerra, è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Catanzaro che stamane ha portato all'esecuzione di numerose perquisizioni. 15 gli indagati, tra i quali l'ex sindaco e un ex consigliere del Comune di Acri. Nei confronti degli indagati vengono ipotizzati i reati di associazioni mafiose e di concorso esterno per aver agevolato la cosca Lanzino di Cosenza nella sua articolazione territoriale di Acri guidata da Giuseppe Perri. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità nell'affidamento di appalti pubblici da parte della precedente amministrazione della Comune di Acri guidata all'epoca dalla sindaco Luigi Maiorano che è indagato per concorso esterno. Appalti che riguardavano attività di competenze dell'assessorato regionale all'agricoltura quali lo spalamento della neve e la più ampia attività di disboscamento e la successiva vendita del materiale legnoso. Tra gli indagati figura anche l'ex consigliere comunale di Acri Angelo Gencarelli che era anche componente della segreteria di Trematerra. Secondo l'accusa gli indagati avrebbero condizionato enti pubblici quali la Regione e il Comune avvalendosi dell'apporto di figure istituzionali quale l'assessore alla ramo Michele Trematerra e l'ex sindaco Luigi Maiorano. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS